Al Presidente Rossi gli diciamo la tua confusione ci crea un grave imbarazzo, leggete il nostro comunicato stampa. E riguardo alle affermazioni del Senatore del PD è sposito, diciamo non dire bugie. La nostra interrogazione protocollata tre mesi fa chiedeva chiarezza sui costi di quest'opera importantissima, sul raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia, linea e raddoppio ferroviario che vede il Movimento 5 Stelle a favore. Chi è il vero sciacallo? Chi è il vero sciacallo?